Successo per il comico abruzzese in Duccio ieri pomeriggio presso il nuovo Borgo a Sulmona, dopo la sua prima visita in occasione dell'apertura del centro commerciale, torna ancora una volta a far divertire il pubblico con le sue esilaranti battute. Ricordate il compleanno di diamante, il 17 dicembre, scadeva l'Imo all'ordine. Io ho scoperto che in Abruzzo, sapevo pure perché si chiamano l'Imo, che quando ha chiuso la cartella, gli punta, mamma del te padre. Tutta a posta, tutta a posta, se ti metto così, se ti metto così forte, che sopra questi vestiti e sopra questi luci, ci sono messo a posta. Perché la settimana scorsa sono venuti a un giardino senza la maglietta, non sei durito un colpo per la settimana. Borgo, abbiamo già fatto l'inaugurazione qualche anno fa, adesso ci troviamo di nuovo qui con grande piacere, con tutti gli amici, i negozi, sperando di portare una folata di allegria, un po' di buon umore, anche buon di ottimismo e magari la predisposizione a spendere qualche spicciolo in questo momento di crisi, sia per chi acquista ma soprattutto per chi vende. Cioè, una televisione sta sul mono, sotto la montagna si chiama Onda. Cioè, Onda che sta a pescare, scusa. Arrivate a pescare. No, perché io lo chiedo sempre, perché fortunatamente abbo sotto in un fosso e non prendo neanche una televisione. Quindi la sera mi fai a dormire presto, perciò ho quattro figli. Tutte le conseguenze. Ci fanno un saluto a Onda TV e a tutti i telespettatori? Saluto particolare, un primo piano e un bacio a me. Non ci vedo bene, ma vi voglio bene. Ciao.